Messaggio di San Michele Arcangelo a Scegliana Il sesto sigillo sarà presto rotto, dopo il buio seguirà un segno in cielo. In un mondo permeato dalla tensione tra luce e tenebre, San Michele Arcangelo si rivolge come vigile difensore, portando messaggi di avvertimento e speranza. Il suo richiamo alla preparazione e alla preghiera risuona come un eco attraverso il velo del tempo, indicando un momento imminente in cui il sesto sigillo si romperà e le tenebre si riverseranno sulla terra. Con una spada sguinata, San Michele è pronto a difendere contro le forze oscure e il suo messaggio invita l'apertura dei cuori di fronte a un segno celeste di giudizio. Che queste parole siano un faro nella notte imminente. Leggiamo il messaggio. Preparate i vostri cuori, perché il sesto sigillo sarà presto rotto e le tenebre copriranno le vostre terre. Un'oscurità che sarà illuminata da un grande segno nei cieli, un segno che segnalerà un giudizio in miniatura. L'amorevole condanna del nostro Signore Salvatore penetrerà nei cuori dell'umanità. La gravità di questa condanna dipende dallo stato di ogni anima. Il paradiso, il purgatorio e l'inferno saranno immaginati di conseguenza. Molte conversioni avranno luogo quando il nostro Signore Salvatore, Gesù Cristo, abbraccerà l'umanità con il suo ultimo atto di misericordia. Amati abitanti del cuore di Gesù Cristo, continuate a pregare il rosario di luce di nostra madre per la conversione di queste anime in pericolo. Con la mia spada sguanata, sono pronto, insieme a moltitudini di angeli, a difendervi dalla malvagità e dalle insidie del diavolo, i cui giorni sono pochi. Così dice il vostro Vigile Difensore. Così dice il vostro Vigile Difensore. Grazie a tutti